ed ecco a voi lo chef Simone Martorana chef partiamo con le domande il piatto che avresti voluto inventare il piatto che avrei voluto inventare è senz'altro la matriciana perché riesce a bilanciare alla perfezione il sapito ed il dolce cosa vorresti esprimere con la tua cucina con la mia cucina vorrei trasmettere tutto l'amore e il rispetto per la tradizione senza tralasciare l'innovazione ovviamente descrivi la tua cucina in tre parole se dovessi racchiudere la mia cucina in tre parole direi passione, semplicità e dedizione l'ingrediente più importante della tua cucina allora secondo me non ci sono ingredienti di serie A o di serie B ogni ingrediente merita attenzione è come se mi chiedeste a chi vuoi più bene a mamma o papà il tuo chef stellato preferito lo chef stellato che preferisco sarà scontato dirlo ma è Massimo Bottura per me lui riesce a stravolgere piatti della tradizione italiana in una maniera incredibile per questo lo stimo molto per chi ti piacerebbe cucinare una cena speciale? sicuramente una cena speciale la cucinerei per mio nonno che purtroppo non c'è più lui non ha potuto assaggiare molti dei miei piatti e non ha potuto assistere ai miei piccoli successi quanto è importante per te la sala ovvero chi la gestisce? per me la sala è importantissima innanzitutto il primo impatto che ha il cliente è fondamentale e poi naturalmente la sala fa da tramite tra chi cucina e chi assaggia e quindi raccontare bene un piatto significa riuscire a far venire l'abbonino in bocca al cliente ancora prima di assaggiarlo un piatto veloce per fare bella figura in una serata tra amici per una cena con amici sicuramente una spaghettata aglio e peperoncino un buon bicchiere di vino e vai sul sicuro due parole per descrivere Chef e Me Chef e Me per me è un gruppo fantastico che ha dato modo a me e ad altri di far conoscenza e confrontarsi in maniera pulita lo Chef Simone Martorana Young Star per 7 metri a me è un ruito quindi a me è un ruito di farro a me cuore io sono posti qui